10 febbraio 2020, primo caso sospetto di infezione da coronavirus nella città di Salerno. Un 42enne originario degli Alburni, dopo aver accusato i sintomi classici della malattia, si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona con una lieve febbre ed ha dichiarato di essere rientrato dalla Cina dopo essere andato lì a far visita alla propria fidanzata, permanendo per un periodo di circa tre mesi. I sanitari del nosocomio salernitano hanno immediatamente attivato il protocollo con il giovane che dopo essere stato posto in una sala in isolamento è stato caricato a bordo dell'ambulanza sterile dell'Humanitas per il trasferimento all'ospedale Cotugno di Napoli per i dovuti accertamenti. La situazione però non desta particolare preoccupazione perché a quanto pare l'uomo prima di rientrare in Italia tre giorni fa sarebbe passato dalla Germania dove i controlli hanno dato esito negativo e inoltre pare che il 42enne avrebbe soggiornato in una zona della Cina lontana dal focolaio dell'epidemia Wuhan. A stemperare ancora di più la tensione c'è il test del tampone faringeo effettuato al Cotugno di Napoli che non ha evidenziato particolari sintomatologie.